E' l'esperto di balistica delle parti civili, Luca Pierpaolo Soldati, a mostrarne il funzionamento alla giudice Valentina Nevoso. In aula, regna il silenzio. Quella mostrata venerdì mattina nel processo a carico di Massimo Adriatici è lo stesso tipo di pistola che l'ex assessore di Voghera ha usato per sparare a Yunes il bussetta Ui. Si tratta di una Beretta calibro .22 a canna corta, ha spiegato il perito, un'arma di backup, come viene definita in gergo. Adriatici, che è stato per 11 anni agente di polizia, ne aveva in tasca una identica in quel 20 luglio del 2021. La testimonianza di soldati è probabilmente la più importante della giornata. Secondo l'esperto, la sera della morte di Yunes, la pistola aveva il proiettile in canna ed era pronta per sparare. In aula si è tornati anche a discutere delle munizioni di marca Winchester, che erano nel caricatore. Proiettili di tipo espansivo, ha proseguito soldati, che sono vietati per la difesa personale e per la caccia, e che si possono usare solo al poligono, un dettaglio contestato però dagli avvocati della difesa. Nel corso dell'udienza di venerdì è stata sentita anche la criminologa Virginia Ciaravolo, un'altra consulente delle parti civili. La dottoressa Ciaravolo ha analizzato il comportamento di Albusetta Wee, spiegando alla giudice che l'uomo era affetto da un disturbo psicotico, iniziato circa 5 o 6 mesi prima della morte, avvenuta in piazza Meardi. Yunes soffriva di attacchi di panico, secondo quanto raccontato dalla sorella Baigia, e aveva spesso delle allucinazioni, un comportamento che viene frequentemente riscontrato nei senza tetto, ha proseguito Ciaravolo. La giudice ha poi chiesto alla criminologa un'analisi del movimento di Yunes subito dopo l'aggressione ad Adriatici, quando nel video lo si vede cercare di raccogliere qualcosa da terra dopo aver sferrato il pugno. Per l'esperta anche quel gesto, in effetti incomprensibile, era una manifestazione della sua psicosi. Dopo la pausa estiva il processo riprenderà il 18 settembre, in quella data dovrebbe essere sentito in aula proprio l'ex assessore Adriatici.